Condizionamento del voto a Reggio Calabria ha chiesto l'arresto per il consigliere regionale Giuseppe Neri ed il consigliere comunale Giuseppe Sera. La DDA ha fatto luce sul tentativo della Cosca Araniti di condizionare il voto del 2020 e 2021, indagato anche il sindaco Falcomatà. Sono una persona onesta, chiarirò nelle sedi opportune la mia posizione. Queste le parole del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, risultato indagato nell'ambito dell'operazione Ducale. Amministrative, ballottaggio Cosentino Romeo a Vibbo. Sarà necessario il secondo turno anche a Gioia Tauro dove si sfideranno due donne, Scarcella e Russo, e a Montalto Fugo dove la sarà tra Faragalli e Dacri. Niente ballottaggio a Corigliano Rossano, Stasi si conferma sindaco al primo turno, battendo nettamente straface. Cosenza Calcio, Ursino, nuovo DG del Vecchio, nuovo DS. Il decano Giuseppe Ursino sarà direttore generale del club Rosso Blu per la prossima stagione, contratto di un anno per l'ex Crotone. Il direttore sportivo Gennaro Del Vecchio si lega invece al Cosenza per due stagioni. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere TV. Apertura dedicata alla cronaca, oggi con l'operazione dei carabinieri di Reggio Calabria che ha portato all'emissione di 14 misure cautelari per il reato, tra gli altri, di scambio elettorale politico mafioso. La DDA ha fatto luce sul tentativo della Cosca Araniti di condizionare il voto di regionali e comunali. L'indagine condotta dalla distruttuale antimafia di Reggio Calabria con l'arresto di 11 persone, 7 finite in carcere e 4 domiciliari, ha fatto emergere la particolare vocazione della Cosca Araniti nello svolgimento di attività criminali volte al controllo delle attività produttive del territorio, sia nel settore imprenditoriale, sia nelle attività della pubblica amministrazione, e scrive il GIP nell'ordinanza. La Cosca infatti negli anni si è costruita una certa reputazione, soprattutto nella fase successiva, la guerra di Indrangheta a Reggio, diventando una vera e propria holding delle attività economiche criminale. Una strategia attuata attraverso l'avvio di imprese a gestione familiare, operanti principalmente, ma non in via esclusiva, nel settore degli appalti edilizi. Ma non è tutto, secondo le accuse dell'antimafia, la volontà degli araniti di insediarsi nella gestione della cosa pubblica si sarebbe concentrata soprattutto nella creazione, nel rafforzamento di legami di fiducia con i candidati e rappresentanti della politica a livello regionale e locale per consolidare l'affermazione della Cosca sul territorio. Le investigazioni avviate nel 2019 avrebbero infatti permesso di acquisire elementi sintomatici del condizionamento delle elezioni presso alcuni seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria nel 2020 e nel 2021 e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria nel 2020. L'ufficio di procura ha quindi avanzato richiesta di applicazione di misura cautelare reggettata dal Tribunale per il delitto di scambio elettorale politico mafioso, oltre che su soggetti legati alle articolazioni mafiose operanti nell'ambito cittadino, anche a carico del consigliere della Regione Calabria di Fratelli d'Italia, Giuseppe Neri, e del consigliere del Comune di Reggio Calabria, in quota PD, Giuseppe Francesco Sera. Nel procedimento penale risulta indagato anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Questa mattina ho appreso di essere indagato in un'inchiesta della procura di Reggio Calabria. È una vicenda che, come sempre accaduto in tutte le situazioni giudiziarie che ho dovuto affrontare in questi anni, chiarirò nelle sedi opportune, pienamente rispettoso dell'attività della magistratura per la quale nutro piena fiducia. Lo afferma in una sua dichiarazione il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, indagato nell'ambito dell'operazione educale condotta dai carabinieri del Rosso coordinati dalla locale procura. Il primo cittadino è indagato per scambio elettorale politico mafioso, sebbene nei suoi confronti non era stata avanzata richiesta cautelare, non avendo ritenuto compiutamente integrati per lo stesso tutti i presupposti legittimanti. L'indagine ha fatto luce anche su episodi di ipotizzato condizionamento delle competizioni elettorali. Chi mi conosce, aggiunge Falcomatà, sa che ho sempre svolto il mio ruolo in piena onestà, tenendo fede al principio della legalità come bussola del mio agire politico ed amministrativo. Ed in questo senso intendo continuare ad operare con serenità nell'interesse della città, nella piena consapevolezza di quanto importante sia l'attività repressiva nei confronti delle cosche di Indrangheta, portata avanti dalla magistratura che vedrà sempre nelle istituzioni territoriali che mi onoro di rappresentare uno strenuo ed integerrimo alleato. E andiamo avanti con la cronaca perché squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, di staccamento di Soverato e della sede centrale sono state impegnate dalle 10.30 circa in via Unità d'Italia nel comune di Monte Paone Lido per una esplosione in un appartamento seminterrato. Tre le persone ferite, due uomini in modo serio hanno riportato ustioni gravi mentre una donna rimasta schiacciata e chiusa nel locale bagno dalle macerie è stata tratta in salvo dalla personale dei vigili del fuoco ed è stata affidata al personale sanitario del suo M118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera. Le sue condizioni sarebbero meno gravi. L'esplosione ha completamente divelto le pareti delle abitazioni, porte e finestre. Danni anche alle abitazioni sovrastanti che in via precauzionale sono state evacuate. Causa dell'esplosione è una possibile fuga di gas, anche se ulteriori accertamenti sono in corso. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale per raggi adempimenti di competenza. E quindi ci occupiamo di politica con l'esito delle amministrative. Si andrà al ballottaggio a Vibo Valencia dove saranno Roberto Cosentino ed Enzo Romeo a contendersi la poltrona di primo cittadino. Resta fuori dai giochi. Francesco Muzzopappa. Sarà il turno di ballottaggio a decretare il nuovo sindaco di Vibo Valencia, l'unico capoluogo di provincia chiamato alle urne in questa tornata elettorale. A sfidarsi i prossimi 23 e 24 giugno saranno il candidato di centrodestra Roberto Cosentino e quello di centrosinistra Enzo Romeo. Al primo è andato il 38,43% delle preferenze, il secondo si è fermato al 31,92%. I prossimi 10-15 giorni ancora di lavoro, di confronto, di impegno per far arrivare la forza al nostro progetto e della nostra prospettiva di cambiamento ai cittadini che ancora non sono stati tutti o la maggior parte convinti della nostra idea che invece sono sicuro che alla fine avrà la maggioranza. Io onestamente non penso ad accordi o ad apparentamenti. io cercherò di parlare a chi ha votato per quel pollo, alle persone, ai cittadini, ma non a accordi di palazzo. La coalizione è questa, deve rimanere solida, salda, perché comunque abbiamo costruito qualcosa di importante che deve darci la forza per impiegare questi 15 giorni, per consolidare ancora di più questo progetto, questa coalizione e convincere chi fino ad oggi non è stato convinto fra i cittadini. Parleremo ai cittadini. C'è stata una presenza e una voglia di starmi vicino e allo stesso tempo di testimoniare la voglia e la necessità di votare per Enzo Romeo anche attraverso eventualmente un voto di giunto. Un voto di giunto che sicuramente ha premiato me perché penso di aver attratto l'attenzione su ciò che è la positività della politica. Gli accordi non rientrano nel mio modo di essere e nel mio modo di fare. Io l'unico accordo che voglio fare è un accordo con tutti i cittadini di Vibo e penso che fino ad ora i cittadini di Vibo abbiano dato prova di aver assolutamente accolto questa mia possibilità di accordo. Ottima performance ma niente di più per Francesco Muzzopappa fuori dai giochi nonostante il suo 28,85%, appena lo 0,81% dei voti a Marcella Murabito. La nostra valutazione non potrà prescindere dal bene e dall'amore per questa città e per le sue frazioni, come sempre. Noi non siamo cambiati e questo risultato non ci cambia. Per noi è un'ottima affermazione. C'è chi ci dava una palla di neve pronta a sciogliersi al primo sole. Non siamo stati una valanga ma certamente siamo una forza solida di questa città ed è una forza su cui la città può sempre contare. Ballottaggio previsto anche a Gioia Tauro dove la Corsa 2 sarà tutta rosa e a Montalto Fugo. A Corigliano Rossano invece Flavio Stasi vince al primo turno. Non sarà necessario il ballottaggio a Corigliano Rossano per decretare la guida dell'amministrazione comunale. Il sindaco uscente Flavio Stasi si conferma tale al primo turno con un ampio margine sulla sfidante. Il candidato di centro-sinistra ottiene infatti il 64,78% dei voti. La sua competitor Pasqualina Straface del centro-destra si ferma invece al 35,22%. Si dovrà ricorrere al secondo turno invece a Gioia Tauro dove a contendersi la poltrona di primo cittadino saranno due donne Simona Scarcella che si è fermata al 39,21% delle preferenze e Maria Rosaria Russo alla quale è andato il 35,43% dei voti espressi. Niente da fare per Rosario Schiavone e Renato Bellofiore decisamente più staccati. Servirà un ulteriore turno per determinare la vittoria di uno dei due candidati finiti al ballottaggio anche alle amministrative di Montalto Fugo centro del Cosentino dove Biagio Antonio Faregalli sfiora la vittoria al primo turno ma non la c'entra per poco fermandosi al 49,6% delle preferenze. Al secondo turno sfiderà Mauro D'Acri che ha conquistato il 42,43% dei voti. Staccatissimo il terzo candidato in corsa Emilio Viafora con l'8,51%. Tra gli altri centri più grandi ma comunque sotto i 15 mila abitanti e quindi dove non sarà previsto il ballottaggio vittoria per Domenico Antico a Cittanova con il 39,06% di Achille Ordine a Diamante con il 40,42% e di Irma Bucarelli a Medicino con il 43,79%. Ed ora ce ne andiamo a Crotone perché è stata donata all'ospedale San Giovanni di Dio una vasca per il parto in acqua, in particolare al reparto di ginecologie ed ostetricia. Il prezioso dono arriva dal comitato di avvocati crotonesi note fuori udienza. Un altro passo avanti in un reparto che ha oggettivamente dei numeri e una qualità assistenziale particolare. Ricordo il numero dei parti di questo punto nascita che è sopra gli standard nazionali per quanto riguarda sono 1200 parti all'anno solitamente con un bassissimo numero di cesarei primari, quindi sono numeri che apparentemente non dicono nulla ma che in realtà testimoniano una capacità professionale sia dei medici che delle ostetriche che è del personale infermieristico che lavora in questa struttura sicuramente di alta qualità. è se non vado errato il punto nascita con il più basso numero di cesarei nella nostra regione, questo ha garanzia di una qualità assistenziale importante e anche di diciamo meno effetti collaterali sui nascituri nel tempo. Ci mancava, è qualcosina che ci potrebbe dare un tocco in più per cercare di dare un livello di assistenza migliore per far sì che la paziente possa venire più tranquilla e magari stiamo cercando già di avere, stiamo cercando di avere già dei risultati positivi nel senso la gente dice ma mi devo pronotare, che devo fare per poter... è una novità, una novità che spero che possa darci più tranquillità nell'assistenza ma più tranquillità non tanto a noi ma quanto alle pazienti. Questo comitato che è noto è fuori udienza, che è composto da Roberto Stricagnoli che è il nostro presidente, Serafina Cavaliere, Pasquale Montesano, Pina Notarianni ma sopportato da tanti avvocati che costituiscono la nostra base, la nostra forza che scombinati i disposti oggi con noi abbiamo Alessandra Galdieri, siamo stati accomunati, dicevo, da un motto che è tanti avvocati per una sola causa, l'abbiamo vinta. Infine il calcio, il Cosenza annuncia il nuovo direttore generale e il nuovo direttore sportivo Giuseppe Ursino e Gennaro Del Vecchio si legano al club, il primo per una stagione, il secondo per due. Dopo settimane di tira e molla sulla possibile riconferma del direttore sportivo Roberto Gemmi negli ultimi giorni la partenza verso Empoli di quest'ultimo che sarebbe rimasto volentieri a Cosenza ha svelato le nuove strategie del presidente Eugenio Guarascio, è dato là a una nuova rivoluzione, l'ennesima da quando il patrone rosso-blu è alla guida del club. Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane è un decano del calcio che conta come Giuseppe Ursino ad assumere l'incarico di direttore generale, figura che negli anni a Cosenza è mancata non poco. L'annuncio ufficiale questa mattina, Ursino capace nel ruolo di direttore sportivo di portare il crotone in Serie A, si lega al Cosenza fino al 30 giugno 2025. Assieme a lui arriva in rosso-blu anche il direttore sportivo Gennaro Del Vecchio, ex responsabile del settore giovanile del Lecce, quest'anno vice direttore sportivo a Verona, ufficializzato un accordo biennale. A questo punto si valuterà cosa fare con William Biali che avrebbe ancora un anno di contratto e con l'affare Tutino. Entro il 15 giugno bisognerà dire al Parma, titolare del cartellino dell'attaccante Campano, se si intende riscattare il calciatore. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG. Buon proseguimento sull'altro Corriere TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.